L'Election Day 2018 è alle porte. Domani si voterà per le elezioni amministrative. Le urne si apriranno alle ore 7 e resteranno aperte fino alle 23. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti è previsto tra due settimane, domenica 24 giugno. Per esercitare il diritto di voto occorre esibire un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. In provincia di Salerno sono 19 i comuni chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. Si tratta di Atena Lucana, Polla, Aquara, Calvanico, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Monte Corvino, Rovella, Novivelia, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Ponte Cagnano Faiano, Rocca Gloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte e Scala. In provincia di Potenza sono chiamati al voto gli elettori di 12 comuni, Atella, Castelluccio Superiore, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda e Vaglio Basilicata. Nella vicina Calabria la provincia con più persone chiamata al voto è quella di Cosenza, con 58.689 aventi diritto e 16 comuni alle urne. Tra questi Casali del Manco, un nuovo comune istituito il 5 maggio 2017 mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, un comune con 10.000 elettori.